La cultura con un click, dopo le web tv e i portali internet, anche la Treccani propone i suoi dizionari su Telefonino. Scienza e cultura sempre più presenti su web e Telefonini, anche la storica Treccani propone il suo dizionario con un click. Stefano Campagna. Quando lei ha bisogno di una informazione scientifica o culturale, a chi si rivolge? Utilizzo molto internet. Trova attendibili le fonti? Dipende, bisogna saper cercare. Sempre internet, perché comunque è il più rapido, che ha maggiori informazioni. Non sfoglia più l'enciclopedia? No, no, è molto più comodo internet. Quando il Made in Italy è cultura e dove il profumo di storia, pur conservando il fascino della carta, riesce a rispondere, anche con le nuove tecnologie, alle generazioni web e non solo a setate di sapere e velocità. Ci volete privare del piacere di sfogliare un volume? No, no, questo piacere non vogliamo tolgervelo, anzi, siamo sempre qua per servirvi. Però è il mondo, la tecnologia, l'evoluzione della società che obbligano a servirsi anche di altri mezzi. Portale, web tv, youtube. Ed ecco che tra i vocabolari sul telefonino arriva fra gli altri, quello della Treccani. Sul telefonino basta un clic per consultare un dizionario. Se visitate il nostro sito, il nostro portale, potete consultare l'enciclopedia e quindi avere delle informazioni certificate dai nostri comitati scientifici.